Il più di un'occasione hanno chiesto all'assessore ai servizi sociali e alla Giunta quali e quante somme sono destinate in bilancio a favore dei diversamente abili e delle loro famiglie. Essendo prossimi alla discussione del documento finanziario e non avendo notizie della programmazione chiediamo lumi e certezze. E quanto esigono il Presidente del Consulente Legale dell'Associazione H, Maria Concetta Maganucco e Paolo Capigi. La Giunta Comunale dicono che deve prestare attenzione e per questo si chiede di sapere qual è il corrispettivo impegno spesa, ancora prima che il bilancio di previsione approdi in consiglio per la discussione e l'approvazione. L'Associazione H vuole sapere gli importi dei fondi destinati al servizio di trasporto speciale, scolastico e riabilitativo, quello destinato al servizio per l'assistenza igienico-sanitaria, accudienti nelle scuole dell'obbligo per gli alunni non autosufficienti. L'importo delle somme destinate al personale specializzato e agli assistenti della comunicazione, i fondi destinati alla incentivazione e la pratica dello sport dei diversamente abili. Ed ancora i fondi indirizzati al servizio di aiuto domestico agli infra 65 anni non autosufficienti e i fondi destinati agli anziani ultra 65 anni non autosufficienti. L'Aggiunta Comunale rilancia l'Associazione H deve dirci qual è l'importo delle somme destinate alle case famiglie, comunità alloggio, case protette e centri diurni, anche con riferimento agli importi che l'ente eroga a favore dei soggetti collocati fuori provincia e fuori regione. Nella nota Maganunco e Capici inoltre chiedono di sapere se e quali provvedimenti l'amministrazione intende adottare nei confronti di privati e organizzazioni sociali che pur occupando strutture comunali non offrono reali e concreti servizi alla collettività. L'Associazione H sottolinea che ultimamente sono giunte alla mentele di parecchi genitori che ad oggi non hanno ricevuto per i loro figli il servizio di trasporto scolastico, quello di accudienza e quello dei servizi specialistici previsti dalla legge 104. Non escluso che l'Associazione H si rivolga alla Procura e alla Corte dei Conti.